Vi hanno detto di non venire oggi, invece i Notav sono ancora qui. I Notav, come si sa, sono disobbedienti alle cose alle quali non vale la pena obbedire, per cui siamo tutti qui, Notav da tutte le parti d'Italia, Notav dalla Valle, anche alcuni sindaci che evidentemente non stanno agli ordini costituiti. È una giornata bella, come sempre, torno, il paesaggio è magnifico, ti viene sempre più voglia di difenderlo. I grandi interessi non hanno nulla a che fare con gli interessi reali delle persone, per cui siamo nel giusto e continueremo fino alla vittoria. Grazie.